pensieri pensare è doloroso esagerare nel pensare è deleterio pensare è sintomo di nobiltà d'animo di sensibilità alla vita è possibile smettere di pensare anche solo per alcuni minuti si potrebbe vivere senza pensare vivere meglio senza i pensieri negativi che si piantano nel nostro cervello e logorano questi pensieri invecchiano e si trasformano in cento piccole rughe attorno agli occhi fanno perdere nel buio e oscurano la luce in fondo disorientano creano apatia pensieri continui che fanno smettere di pensare alla propria esistenza nessuna via di fuga né discernimento fra momenti di gioia e momenti bui un labirinto senza uscita pensieri e ancora pensieri che travolgono e diventano simili ad un cielo in tempesta grazie a tutti